Il tuo consulente Agrometrio ti dà il benvenuto su Agrondotizia, il tempo previsto per questo fine settimana tra il 30 di settembre e il 2 di ottobre. La perturbazione giunta dal Noropa nella giornata di giovedì e quella africana giunta al sud ancora insisteranno sulla penisola portando rovesce temporali al centro nord e Campania, nella sera rovesce temporale ancora al sud. Massimo intorno a 25-27 gradi su Puglia, Lucania, Calabria, Isole Maggiori, 22-23 gradi sul resto dell'Italia. Sabato ancora rovesce temporale al sud, Toscana, Umbria, Lazio, massime simili a quelle di venerdì. Domenica si allunga l'alta pressione, bel tempo su tutta l'Italia, temperature appena pelo più alte di quelle dei giorni precedenti.